Ciao a tutti amici! Come va? Come vi avevo promesso, ecco per voi il video Ask Alvin. Cominciamo subito con la prima domanda. Timmy Forever chiede, quanti anni hai? Ti adoro! Grazie Timmy Forever! Comunque ho due anni! Domanda numero 2 Timmy Luna e Castellini chiede, Alvin come fai ad essere così bello? Non lo so, la mia mamma e il mio papà mi hanno fatto così, quindi sono bellissimo. Domanda numero 3 Manino pazzo, sei maschio o femmina? Manino pazzo, sono un maschietto. Mi chiamo Alvin. Domanda numero 4 Leonino mi chiede, quanto ti piacciono i gambaretti da 1 a 100? Mi saluti, mi chiamo Leonardo. Ciao Leonardo! Allora, da un accento è pochino, mi piacciono almeno mille. Ultima domanda, numero 5 Il lama Pablo mi chiede, cosa gli dai da mangiare? Comunque Alvin, sei bellissimo. Grazie per il complimento. Comunque quello che mangio è un po' di tutto. Mangio i gambaretti, i bastoncini, la frutta, la verdura. Il mio cibo è vario, non ho un piatto standard. Comunque amici, vi ringrazio per le vostre domande. Se volete un altro video così, potete fare altre domande se volete qui sotto nei commenti. Così al prossimo video vi risponderò. Vi saluto, vi mando un bacino, a presto dal vostro Alvin. Ciao!